...e che urla la vita quando sei costretto a nasconderti... Ma cosa succede? ...quando fuggi all'impazzata da qualcosa che non conosci... Non mi sembra che sia facciato... ...quando tutti ti voltano le spalle... No, per forza! In coda! Grazie! ...quando non puoi fare altro che mentire... ...ormai tutto ha un prezzo... Per forza! ...ed il tuo mondo si riduce ad una scala... ...aveva portato alla luce misteri nascosti... ...a quello è mistero... ...aveva spremuto cose che non doveva spremuto...